Eikma è una storia anche d'amore, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, Elf è tornata. Direi che siamo la testimonianza di questo amore, di questo ritorno di fiamma, perché da un po' di anni mancavamo a questa manifestazione per motivi più svariati, però devo dire che è stato un po' un mio subito amore dal mio rientro in azienda a causa di un lungo espatrio e ho detto la moto, dov'è la moto? E quindi abbiamo fatto una piccola apparizione l'anno scorso proprio per testare il polso e l'entusiasmo di questa fiera è praticamente non cambiato, forse anche molto migliorato. Ho trovato un ambiente vivo, un'organizzazione efficiente che ci ha fatto ben decidere che quest'anno volessimo fare un ritorno alla grande e direi che forse ci siamo riusciti, di quest'anno, uno stand meraviglioso, abbiamo voluto portare la stessa immagine che abbiamo quando forniamo l'ospitalità sui circuiti e devo dire che ci è riuscito perché l'entusiasmo di tutte queste persone che vengono a visitare ce lo testimoniano. Tutte queste persone sono qui perché animate dalla passione, quella che anima poi anche noi. Cosa vuol dire per voi essere qui e mostrare a tutti gli appassionati cosa siete una volta di più ed essere vicini alla gente e potervi far percepire come una realtà concreta al di là di quello che abbiamo nei circuiti? In una sola domanda mi dai l'opportunità di parlare di tanti aspetti. Chiaramente è la passione. Vediamo su questo muro che dal 67 ad oggi il marchio si è evoluto per stare al passo con i tempi ma quello che ci ha guidato è sempre la passione. Infatti lo chiamiamo brand of passion proprio perché abbiamo riscontrato che con tutta l'intervista degli sportivi, dei clienti, quello che suscita l'interesse di questo marchio è proprio che siamo stati guidati sempre da una passione. Abbiamo trasferito questa passione, la stiamo trasferendo ai nostri operatori commerciali che sul territorio tutti i giorni cercano di far comprendere che non è soltanto un marchio commerciale ma un qualcosa che pulsa. Se vedete il video infatti c'è questa immagine blu e rossa come se fosse il cuore pulsante della nostra passione verso questo prodotto. Il claim di quest'anno di EICMA è Real People, real emotion. Il suo EICMA effect qual è? Essendo una persona reale che vive di emozioni ovviamente per il motorsport. È un po' quello che rappresenta questo stand. Se visitate lo stand voi iniziate a vedere il display con tutte le nostre lattine che negli anni si sono sosseguite e questo per dimostrare la storia, il nostro passato, il nostro presente. E poi se avete visto l'esposizione abbiamo delle moto che rappresentano esattamente il futuro. È un brand che si rivolge al presente e sta costruendo il futuro. La moto volante credo che sia un qualcosa di unico perché è l'unico esemplare al mondo e avere la soddisfazione di essere presenti in EICMA con voi e sul nostro stand. La moto che probabilmente tra quanto? Tra cinque anni? Tra dieci anni? Sarà di comune utilizzo? Beh, penso che i ragazzi di oggi quando utilizzeranno questa moto si ricorderanno. Io l'ho vista sullo stand. Passato, presente e futuro. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. A sicuro. Non mancherò. Grazie. Grazie a voi.